Eccoci di nuovo nel canale Yearforex, io sono Arduino Schenato e oggi vorrei parlare di una questione che è avvenuta proprio negli ultimi giorni. Come sapete, proprio tra venerdì e lunedì, soprattutto lunedì, c'è stato un forte sell-off soprattutto dei mercati principali azionari, quindi penso allo Standard & Poor's 500, penso a in generale un po' tutti gli indici, il petrolio è sceso molto, c'è stato anche il crollo dell'oro direttamente sempre lunedì, addirittura il bitcoin. Insomma ci sono stati dei movimenti molto molto forti, grande volatilità, soprattutto quello di cui oggi vorrei parlarvi sugli indici azionari, quindi nell'ambiente borsistico. E proprio in questi ultimi giorni, diciamo che ho sentito di persone che avevano da tempo, da qualche anno, avevano iniziato a investire tramite dei sistemi, diciamo un po' vecchi come il mondo, riguardanti le opzioni, quindi in maniera molto diretta vendita di opzioni put sui mercati azionari, penso per esempio all'S&P 500, con degli strike abbastanza ampi e quindi con, diciamo, percentuali di win ratio, quindi il rapporto di trade profittevoli molto alto rispetto alle possibili perdite. Molto alto, sto dicendo di molto molto alto, si tratta da un 97 a un 99%, un po' dipende dal mercato, ma se prendiamo l'S&P 500 veramente questo si può avvicinare quasi a un 99%, ovvero faccio 100 trade, 99 mi vanno in profitto, uno perde. Il problema di questo tipo di strategia così molto molto semplicistica, in realtà le opzioni sono un ottimo strumento operativo per i trader, ma devono essere ben conosciute, ben sviluppate e hanno bisogno di strategie, di modelli che sono un po' più avanzati che vendita di put, come se non ci fosse un domani, diciamo. Io, sapete, non sono un opzionista, faccio un trading molto più classico, quindi sono un trader direzionale, compro e vendo, stoppo e vado a target. Queste sono le, gestisco le posizioni, questo è il mio trade. E proprio qui volevo soffermarmi oggi, perché appunto mi è arrivata voce che molte persone che utilizzavano questi sistemi, questo sistema in particolare, molto conosciuto anche sul web, diciamo che era da, non so, due anni, che continuavano a guadagnare ogni mese, ogni mese, ogni mese, perché la vendita di put sul, per esempio, l'indice S&P, permetteva, visto l'indice sempre in salita, di guadagnare, incassare un piccolo premio, piccolo, medio, anche grande, premio, poi dipende anche dal margine che si utilizzava, e quindi la leva che si andava a utilizzare, mensilmente, senza mai perdere. Perché? Perché con un tipo di mercato del genere, che è sempre in salita, utilizzando strike molto alti, molto grandi, diciamo, si riusciva a incassare sempre il premio, solitamente a tre settimane, quindi a ogni scadenza delle opzioni. Che cosa succede? Succede che però, questo tipo di strategia, nel momento in cui tu fai 100, 100, 100, 100, 100, però arriva un momento in cui il mercato fa un qualcosa che è, per quel tipo di mercato, in quel momento, una cosa straordinaria, se vogliamo, ma neanche tanto, perché poi se noi guardiamo, e dopo lo vedremo, l'S&P 500 in realtà ha fatto un movimento che in un'ottica di mercato succede, ecco che un trade può mangiarsi tutto quello che un trader ha fatto negli ultimi, non mesi, ma anni, negli ultimi tre anni, due anni, un anno, o addirittura se chi invece ha iniziato a utilizzare questa strategia l'altro ieri, o il mese scorso, non solo non mangia i guadagni fatti perché non ci sono, proprio a livello di tempistica non ci possono essere, ma addirittura si mangia tutto quello che è il conto, e anche. Si parla veramente di, quando si fa questo tipo di strategia molto, ripeto, molto semplicistica e che non deve essere fatta, di avere delle perdite che potremmo definire illimitate, ma soprattutto gonfiatissime, perché nel momento in cui ti va contro, la vendita delle opzioni putti ti va contro il mercato, la volatilità si gonfia e diventa veramente un disastro, un disastro. Quindi migliaia e migliaia di euro bruciati, quindi 10, 5, 30, 50, 80, mila euro bruciati in un giorno per un trade è andato male, e in tre anni si continuava a guadagnare. Quindi, cosa di cui volevo parlare oggi? Volevo parlare del fatto che dobbiamo, non dobbiamo credere a tutte queste cose, poi io so che vi dico le cose, le dico da sempre, noi siamo sempre stati molto trasparenti su questo canale, abbiamo sempre mostrato perdite, profitti, gestioni operative migliori, a volte non troppo migliori, ma comunque ho sempre mostrato la trasparenza e ho sempre cercato di trasmettere il fatto che non dobbiamo credere che ci sia una strategia, un modo che vi fa essere invincibili sul mercato. Il bello del mercato è proprio che il mercato è incerto, dovete amare questa caratteristica, questo carattere del mercato. Bisogna amarlo. Io amo queste situazioni. Nell'ultimo mese ho fatto un mese magari negativo, vado a ricercare e quel momento lì sarà utile per migliorarmi nuovamente, seppur faccio trading da tantissimi anni. Benissimo. Siamo sempre qui con umiltà a cercare di capire, di migliorarsi. Io lo dico in primis io. Non c'è io sono più forte del mercato. Ce l'hanno da più 10%, ce l'hanno da più 50%. Non c'è. Bisogna imparare questo. Ma soprattutto dobbiamo cercare di avere un modello operativo che abbia un money management che intanto a livello umano accetti il rischio, accetti la perdita, e poi avere delle piccole perdite e dei guadagni che siano almeno o uguali alle perdite, ma ovviamente mediamente devono essere più grandi delle perdite, perché noi siamo un'azienda. Con Airforex a gennaio scorso abbiamo fatto un evento di due giorni chiamato Trading come azienda, dove abbiamo proprio fatto vedere queste cose. Il bilancio aziendale deve essere ricavi più grandi dei costi alla fine dell'anno. Succede sempre? Ovviamente l'idea è quella di far sì che questo succeda sempre, ma non tutte le aziende ogni anno riescono a chiudere sempre con un profilo di ricavo costo con i ricavi maggiori. Si cerca però di. E la cosa principale è quella però di tenere dei costi che sono limitati, cioè il rischio deve essere chiaro e limitato fin da subito. Preferisco fare anche tre mesi dove faccio delle perdite, ma sono comunque, come dire, calmierate, sono in linea con il mio money management e sono in linea con quel contesto del mio conto, della mia esperienza, di quello che sto facendo. Per poi magari fare i successivi cinque, sei mesi o anche solo due mesi che portano addirittura a riguadagnare quello che si è perso. Non posso io avere un modello aziendale, chiamiamolo così, di Trading, che guadagna ogni mese, pam, pam, sempre, sempre, per anni, e poi mi basta un'operazione che va male per mangiarsi tutto. Questa è un'azienda che va in fallimento. Sembra possa essere l'azienda che guadagna e poi va in fallimento. Quindi l'idea è quella di, io nel mio modello operativo ho sempre dei costi che sono fissi e dei ricavi. Ultimamente ho ripreso molto anche a lavorare proprio con, come poi è scritto nel mio ultimo libro, guadagnare sui mercati con il Pat Price Action Trading, che trovate su Amazon, che trovate su Trading Library, visto che è edito da Trading Library, dove mostro come lavorare sul daily, sei ore, quattro ore, con gli stop in volatilità. Ecco, stop che possono valere, facciamo un esempio, 100, e quindi sono fissi, sono limitati. Ma quando vado a guadagnare, guadagno 100, guadagno 150, 200. Questo è il modus operandi che nel tempo può far crescere un conto, ma soprattutto può far sì che a fine anno ci sia un profilo di costo ricavo che possa essere a favore del ricavo, altrimenti non si è capito niente. Nel momento in cui usiamo, per esempio, lo stop paracadute, più ampio, quindi di quello anche che ho mostrato nel libro, nell'ultimo libro che è uscito qualche mese fa, comunque nel momento in cui il mercato ci va contro, dobbiamo chiudere la posizione per mantenere i costi piccoli, altrimenti si creano delle voragini e poi è difficile recuperare e avere dei ricavi che vanno a, diciamo, sovrastare i costi. Quindi faccio un esempio, prendo un grafico qui, tanto per farvi vedere, vediamo se riusciamo a condividerlo. Eccolo qui. Questo è il grafico di euro-dollaro, per esempio, a quattro ore. Prendo l'ultimo uptrend in atto. Eccolo qua, quello che si è venuto a creare qualche settimana fa. Questo è un quattro ore. Ecco, il mercato mi mostra, per esempio, non so, un FTV, una delle mie strategie. Bene, quindi strategia operativa, FTV Power è una delle mie che ovviamente utilizzo da tempo e che ho costruito. Ecco, facciamo un esempio, compro in questa zona, avrò uno stop, come è disegnato sul mio libro, del 50%, per esempio, della vola, ho fatto i miei studi, e poi magari su questa zona posso andare a guadagnare. Ecco che qui, per esempio, ho avuto un rischio di 100 e qui vado a prendermi, non so, 150. Oppure utilizzo anche il mio paracadute. Benissimo. Se lo utilizzo paracadute ampio, devo comunque avere un rischio, facciamo un esempio di 300. Qui prendo anche 150. Bene, nel momento in cui però perdo, perderò magari 50, 100, 150. Questo deve essere l'utilizzo. Quindi l'impostazione è sempre quella di cercare di mantenere i costi più piccoli dei ricavi. Mai avere, ovviamente, guadagni che sono troppo più piccoli delle perdite nel medio e lungo termine. Ma la cosa su cui volevo focalizzarmi è il rischio limitato. Cioè io ogni volta, essendo un trader grafico, e ricordatevi, non si può fare trading senza studiarlo, perché questo purtroppo è quello che questi sistemi, questi personaggi vi insegnano. No, bisogna studiare, bisogna mettersi lì, bisogna fare sacrifici, bisogna esperire, bisogna stare sul mercato, bisogna capirlo. A volte bisogna anche incassare qualche perdita, fare qualche errore, incassare dei profitti e poi studiare cosa si è fatto. Questo è fare trading. Non pensiamo, non, come dire, facciamoci vendere dei sogni impossibili, cose finte, fake, irrealizzabili. Queste sono veramente delle cose che non hanno molto senso. Quindi nel momento in cui la cosa bella del nostro metodo, per esempio, la cosa che io vedo bella del nostro metodo è che si va a, prendo anche un sei ore, si va a lavorare direttamente con dei rischi assolutamente limitati, limitati. È importantissimo. Non come un venditore di opzioni e basta, che si mette lì in cassa sto premio e poi perde limitatamente. Basta anche una sola volta e perdo tutto. Mi metto sul dollaro australiano. Andiamo a vedere. C'è stata un qualcosa? Ecco. Trovo un'impostazione interessante. Ho visto che c'è questa power sul grafico sei ore che è in linea con quello che mi ero costruito. Bene. Vendo questa zona. Bene. Guardate che vi faccio vedere, sennò poi diventa difficile. Eccolo qua. Vendo questa zona. Bene. Ho uno stop del 50% della vola. Bene. Ok. Guardate un po'. E questo è lo stop limitato. Se questo mi parte su, io qui ho messo 100, perdo 100. Non posso perdere di più. Questo è. Farò anche 100 per 5 volte consecutive. Bene. Avrò perso 500 che ho stabilito fin dall'inizio. Questo è il concetto. Non che questo può, da 100 che io ho, diciamo, come rischio, questo mi può diventare 10.000. Non esiste. Perché così io mi posso uccidere come trader. Ok. E questo poi addirittura, in certi casi, può generare anche dei profitti molto maggiori. Ma al di là poi del rapporto tra costo e beneficio, che sappiamo essere comunque un punto fondamentale del trader, del trading, ma la cosa importante è avere dei rischi che siano fissi e calcolati fin dall'inizio e non si può poi andare a perdere più di quello che si ha rischiato. Quindi, parlando di opzioni, sarebbe molto meglio comprarle dove il rischio è fisso. Compro, pago il premio e quello è il mio rischio. Se parlo di trading come lo faccio io, bene. Ho comunque dei rischi fissi. Non può succedere che la mia azienda venga a fallire, perché ogni giorno, ogni settimana, io ogni mese guadagno ogni volta che il mercato scade l'opzione, guadagno il mio premio, chiudo, sono contento, mi faccio la mia seconda entrata mensile, nel mio secondo profilo di rendimento mensile, nel mio secondo stipendio addirittura a qualcuno. E poi, un giorno, basta, un giorno, una situazione che in un giorno, in un giorno crea proprio il disastro. Nelle ultime dieci giorni si muove il mercato contro, perché questo è successo sull'S&P 500, il mercato è venuto contro mica di tanto. Qua stiamo parlando di un mercato che è ancora in tendenza. Il mercato è venuto contro di, dai massimi, si è fatto un meno 10,21%, e scoppiano non solo i conti, ma i guadagni di due anni, un anno, tre anni. Non è possibile, un sistema del genere non è. Il problema è che molti di voi, in generale, si fanno abbindolare da queste cose, che noi cerchiamo sempre di esserci molto lontani. Perché noi in Alforex, oltre ad essere dei trader che fanno questo da sempre, io personalmente sono un trader che fa trading da, veramente da quando sono poco più che ventenne, da quando ho 25 anni, e da lì ho sempre rivolto la mia vita nel trading, nel trading mio personale, nella formazione, ma nella formazione etica, seria e sana di quelli che sono i valori e gli approcci giusti a questo mestiere. A qualcuno non piace perché dico la verità, perché dico le cose come stanno, e allora la verità fa male. E allora poi si va da questi fantomatici personaggi, questi ma molti altri, che con un marketing che a volte è anche, come dire, meno visibile all'occhio nudo, ma chi riesce un po' a capire, capisce, viene praticamente a ingabbiarsi in queste situazioni e poi si trova dopo un anno, due anni, tre anni a perdere tutto e poi magari dando colpa al broker, dando colpa al mercato, dando colpa sempre a qualcuno perché non ci si prende le colpe. Invece la colpa è di noi stessi. Se io per un mese, se io nel mese di luglio ho perso dei soldi e ho portato a casa delle perdite, quindi non dei ricavi, il problema, l'errore, il, come dire, la colpa, non la devo dare, non la do, non è che non la devo, non la do al mercato, non la do al broker, non la do all'indicatore, non la do alla price action, non la do ad arduino, non la do a questo o a quell'altro, la do a me stesso. Guarderò, cercherò di capire, c'è da migliorarsi, c'è da rifare una cosa, si riaffina una certa cosa, invece c'è sempre da dare colpa a tutti. Va bene, dai, questa è un po' la pillola, chiamiamola così, di oggi. Commentate questo video, mi fa molto piacere quando commentate, poi il fatto che commentiate comunque mantiene YouTube nel suo algoritmo, ci mantiene alti, quindi la possibilità che molte più persone possano vedere questo video, quindi commentatelo, condividetelo con chi pensate possa, come dire, possa essere d'aiuto questo video per qualcuno e quindi magari possa prendere questo video come uno spunto per migliorarsi o per guardarsi meglio in giro. Ovviamente se non siete iscritti a questo canale iscrivetevi e attivate la campanellina. Per concludere, sapete che da qualche settimana questo canale è diventato anche un canale per chi vuole in abbonamento, con un abbonamento molto molto piccolo, che è più che altro supportivo di tutto il lavoro che abbiamo fatto e che stiamo continuando a fare e che continuerò a fare. e basta. A questo punto io vi auguro una buona continuazione di giornata, un buon Trading Simple e al prossimo video. Ciao a tutti.